adesso abbiamo una piccola pausa pranzo chi ci daranno? sempre il solito snack un plum cake un plum cake? ma stiamo scherzando! adesso fate la pausa pranzo un plum cake è buonissimo non convince non mi convince la tua plum cake è piccolo aspettate prima di fare la pausa pranzo dovete giocare a un gioco chiamato biscottino dovrete intagliare il biscotto seguendo le linee altrimenti sarete eliminati ma basta! ciascun giocatore ha il diritto di prendere un coperchio con una puntina per intagliare il biscotto ciascun giocatore ha il diritto di prendere un coperchio e una puntina per intagliare il biscotto e dai! che forma è? oh la forma stella ma è davvero difficile oh non ce la farò mai oh io invece ho una forma ombrello wow è difficilissimo ma potevate darmene una a cerchio a triangolo a quadrato io ho trovato uno strano bigliettino ma scelgo quella stella oh siiii avete 10 minuti di tempo a disposizione iniziamo intagliamo questa parte oh un pezzo si è staccato oddio così oh no oh no oh no si è spezzato in due parti oh no si è spezzato in due parti oh fatelo no 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 oh no 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 colpo di scena ehi ma che scena è mai questa? mmm sembra davvero molto strano ma che sta facendo? mi spiace ma lo voglio fare ah ma quanto è cruento questa cosa ah il giocatore 998 è il triangolo eliminati oh non ci riuscirò mai a tagliare oh idea oh wow che bella idea oh così il biscotto si ammorbidisce e sarà facile togliere la forma eccolo qua il giocatore 85 passa oh si ce l'ho fatta si ce l'abbiamo fatta anche io ce l'ho fatta eccolo qua si ce l'ho fatta il giocatore 999 passa oh eccolo qua si ce l'ho fatta 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 oh fosse sbagliato no 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 pensavo si ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo che schifo ragazzi se vi è piaciuta questa terza parte lasciate un pollice in su iscrivetevi al canale votate commentato il video noi ci vediamo al prossimo video ciao oh mamma mia povero triangolo